Un corteo multietnico con circa 400 partecipanti di ogni età, bambini compresi, che partendo da Piazza del Crocefisso, nel quartiere degli Archi di Ancona, ha percorso a piedi via Marconi, corso Carlo Alberto, per poi fermarsi in Piazza Ogobassi. È stata questa la risposta di movimenti, sindacati e associazioni marchigiane all'apertura sabato pomeriggio della nuova sede di Casa Pound ad Ancona, in via Iesi, nel quartiere del Piano. Un no deciso ma pacifico, quello portato per le strade dai manifestanti, che una volta terminato il loro percorso, hanno concluso la manifestazione con una cena auto-organizzata con cibo multietnico. Oggi siamo qui per dare una risposta a chi vuole portare odio e fomentare una inutile guerra tra poveri nella nostra città. Siamo qui con un corteo che collegora due quartieri popolari, due quartieri meticci, che sono il Piano e gli Archi, e finirà con una festa per mostrare tutte le differenze tra la città, la città intera e questi quartieri, e quello che vogliono rappresentare Casa Pound. Noi siamo stati tra i primi a chiamare questa mobilitazione, siamo contenti che al nostro appello hanno aderito tante sigle, tante realtà, ma soprattutto hanno aderito le persone di questi quartieri, i migranti, gli italiani di questi quartieri e tanti bambini. Questa infatti oggi vuole essere una festa, vogliamo far capire che chi si chiude sotto l'odio, l'intolleranza con azioni violente sono loro, sono Casa Pound, e noi vogliamo invece quartieri aperti, solidali, dove italiani e stranieri possono costruire comunità. Il corteo iniziato alle 17.30 si è svolto in concomitanza con l'inaugurazione della sede d'orica di Casa Pound alle 18, a cui era presente anche il leader nazionale del partito Simone Di Stefano. Quella ad Ancona è la 123esima sezione in Italia, ma sono in programma nuove aperture anche in altre regioni. Erano circa 150 le persone presenti all'apertura ufficiale, che fa seguito a tre anni di attività e presenza sul territorio da parte del partito. È normale, quando si apre la sede di Casa Pound c'è sempre la polemica di qualcuno che, diciamo, invece di fare politica preferisce fare altro. Insomma, i cortei si fanno per i lavoratori, per le famiglie disagiate, per chiedere delle cose importanti. Fare i cortei per impedire l'apertura di movimenti politici assolutamente regolari che si candidano alle elezioni e che qualche volta, anzi spesso, eleggono anche i propri rappresentanti nei consigli comunali è una stupidaggine. Quindi noi ogni volta li guardiamo con pietà e non sappiamo cosa dire. Programmi quindi per i prossimi mesi? Guardi, il programma per la città, abbiamo cinque anni per programmarlo appunto, e quindi ci lavoreremo, anzi siamo già al lavoro per studiare delle proposte innovative per la città. Con l'apertura abbiamo voluto dare un po' un segnale, questa sarà una sede viva, quindi faremo attività culturali, sociali, dopo scuola per i bambini, raccolta alimentaria, eccetera, eccetera. Poi studiamo un programma elettorale da qui per i prossimi cinque anni.